la juventus esce dall europa league e comincia a riflettere su quello che è il futuro della panchina la juventus il futuro della juventus in generale ma occhio perché se prima sembrava un gruppo coeso con la juventus pronto a difendere il proprio allenatore ora cominciano a esserci anche delle lacune delle problematiche anche per quanto riguarda lo spogliatoio è evidente ed emerge chiaramente quello che un malcontento generale quindi scopriamo nel dettaglio tutto quello che succede perché evidentemente anche lo spogliatoio secondo me sta cominciando a voltare le spalle anche virtù di quelle che sono le dichiarazioni voltare le spalle proprio al tecnico bianconero max allegri scopriamo tutto il dettaglio analizziamo oggi tutto nel dettaglio io vi ricordo come sempre qui su fcm newsport sarete costantemente aggiornati sulle vicende della juventus e quindi se vi va iscrivetevi al canale attivate la campagna notifiche e se vi ha lasciato un like a questo contenuto e allora basta vedere le dichiarazioni di scelsi al termine della partita contro il silvia leggiamole se io faccio tante parate non è un buon segnale della nostra prestazione sono state parate inutili mi dà poca soddisfazione in questo momento sinceramente avrei preferito da una partita da senza voto in pagella ma passare chiaramente il turno e sì perché è uno scelsi che mette in evidenza un problema cioè se il portiere il migliore in campo vuol dire che questa grande prestazione non c'è stata come la stanno descrivendo un po tutti rimane sempre una stagione senza trofei giocando alla juve si compete per vincerli trofei non tanto per partecipare questo è il bilancio di scelsi al termine della partita ci sono state tutte le difficoltà che abbiamo affrontata c'è stata la crescita di tanti ragazzi ma quest'anno rimane per sempre una stagione senza trofei non benissimo quindi una scelsi che va durissimo perché dice si va benissimo tutto quello che volete la questione legata alle plus valenze e quant'altro però le plus valenze la sentenza delle plus valenze arriva a gennaio lì dove era già arrivato praticamente quasi lo scudetto del napoli perché a gennaio era quasi già sicuro scudetto del napoli e dove già c'era stata l'eliminazione dalla champions league ai gironi quindi questo ci fa capire che non sempre il discorso legato alle plus valenze deve e il processo juve deve essere una sorta di para fulmine questa stagione che è cominciata ed è finita in maniera assolutamente fallimentare e ancora leggiamo ha fatto la penalità sparliamo della penetrazione scesi dice ha fatto anche bene allo spogliatoio ci sentivamo di fare la guerra contro tutto e tutti puoi sentir parlare di sentenza e penalizzazione non aiuta non so se lunedì ci sarà la nuova penalizzazione c'è confusione l'ordine fa bene a una società quest'anno è stato molto particolare e anche qui è un modo per dire sì ok paradossalmente se andiamo a analizzare la stagione il periodo in cui c'è stata la penalizzazione è stato quello in cui l'avvento ha fatto meglio perché prima della pensazione juve fuori dalla champions ai gironi e juve che prende cinque gol da napoli si allontana definitivamente dall'obiettivo scudetto poi c'è la penalizzazione e qui a juve si ricompatta perché il gruppo comincia a pensare che evidentemente ci sono tutti contro il loro quindi tutti si uniscono a un verso un unico obiettivo succede poi che dopo però la decisione del collegio di garanzia del coni la juventus comincia a perdere una serie di partite ad aprile infatti cominciano a esserci una serie di infinita di partite brutte e perse alla juventus che portano quel più 15 che ti ha dato il collegio di garanzia del coni a essere totalmente annullato cioè quello che il collegio di garanzia del coni ti ha ridato tu l'hai perso in campo poi però c'è un problema lunedì arriva la nuova decisione della corte federale d'appello e stesse parole queste parole di cesne ci fanno capire che evidentemente lui dice la stagione senza trofei e non va bene la juve si gioca per vincere il test le vittorie che sono i risultati a cui era stato chiamato per cui era stato chiamato proprio massimiano allegri colui che era stato chiamato per vincere ora si vede invece dove è andato a a finire attenzione però perché vi ricorderete le parole di allegri al termine al termine la partita sì quando al posto partita cosa fa piuttosto che attaccare i giocatori che avevano realmente fallito quella partita quindi faccio riferimento a quadrato partita terrificante con un fallo in aria che probabilmente non visto alvar in maniera assolutamente clamorosa ma mi viene in mente anche di maria uomo scelto proprio allegri che nel momento clou fallisce una partita clamorosa è un'occasione clamorosa del primo tempo beh ma anche chiesa mi verrebbe da dire ma al di là non è qua un voler dare colpe però allegri in conferenza nel posto partita cosa fa si attacca al fatto che c'erano tanti giovani cioè tu nel momento in cui esci dici è però abbiamo tanti giovani che non hanno esperienza internazionale i stessi giovani che hanno tirato la carretta per tutto l'anno che ti hanno messo in piedi una carretta che era stata demolita da gente come pogba gente come paredes che è venuto a farsi le vacanze e che ti ha portato avanti gente come fagioli gente come gatti tanto criticato inizio anno ora è uno dei migliori difensori della juventus quando in realtà il signor bonucci sta fuori dal campo e si prende 6 milioni e mezzo per guardare tutte le partite dalla panchina come se fosse un allenatore ecco sono loro quelli criticati ma cosa succede proprio qui che invece qui risponde davvero capitano ed è qui che mi piace mi piace veramente la scelta di danilo perché davvero capitano danilo dice la colpa non è dei giovani la responsabilità non se le devono prendere mica i giovani la responsabilità ce la dobbiamo prendere noi che siamo i veterani ed è qui che mi piace l'atteggiamento di danilo come capitano in contrapposizione a quelle che sono le parole di max allegri come vedete ci sono tre versioni diverse uno scesni che dice è ma qua zero trofei quindi non va bene un allegri e dice sì siamo usciti ma paghiamo l'inesperienza e poi c'è danilo che davvero capitano dice no no quali l'inesperienza non c'entra nulla perché fino a che ha giocato fagioli ha giocato questo lo dico io non lo dice fagioli però non lo dice danilo però fino a che ha giocato fagioli ha giocato benissimo e vlaovic che era il giovane con l'inesperienza entra e ti fa gol gatti stato il migliore in campo secondo me dopo scesni e i peggiori invece che sono di maria chiesa è quadrato gente che l'esperienza ce l'ha quadrato non sto neanche qua a dirvi quanta esperienza di maria non sto neanche qua a dirvi quanta esperienza chiesa rispetto a vlaovic miretti fagioli e compagnia anche lui ha tantissima esperienza euro 20 20 partite in champions league partite in europa league quindi lasciamo perdere è comunque una juve che secondo me questo un ulteriore segnale che anche lo spogliatoio comincia a essere un po di subbuio io immagino tutti i giocatori la juventus che poi tra l'altro è una juve che questo è un altro aspetto importante che si affida alle giocate del singolo molto spesso si dice allegri gioca molto indietro e poi si affida la giocata del signore quando il singolo sbaglia è colpa del singolo quindi quando la giocata è tutti in difesa la giocata del singolo terra risolve è bravo allegri perché la gestisce bene è un buon gestore quando invece la juve perde perché il singolo quindi come chiesa come di maria ti sbagliano è colpa del singolo quindi di fatto è un modo anche per levarsi dalle responsabilità e così è troppo facile mi verrebbe da dire così è troppo facile giocare con i campioni quando i campioni non ti risolvono la partita è colpa del campione oppure giocare col giovane e poi dire vabbè ma siamo senza esperienza anno prossimo andremo meglio è sempre un l'anno prossimo è sempre un la prossima partita andremo meglio quando invece bisogna fare i conti con la realtà è una juventus che ha scelto allegri e aveva sbagliato già a priori perché per ricostruire un ciclo nuovo non serve allegri allegri è uno che te lo può forse continuare il ciclo un antonio conte ha aperto un ciclo alla juve ma l'ho aperto anche all'inter e ora allegri e inzaghi sfruttano meglio allegri l'ho fatto prima e inzaghi l'ho fatto ora all'inter hanno sfruttato il lavoro avviato da antonio conte il tanto bistrattato antonio conte questa è una situazione che chiaramente ora deve cambiare tutti i piani io sono dell'idea che anche lo spogliatoio ora comincia a essere in subuglio per questa situazione voglio sapere però che pensate di questa vicenda e quindi analizziamo il tutto secondo voi è giusto cambiare allenatore giusto che i giocatori possano anche premere verso la dirigenza per un cambio allenatore che a questo punto a mio avviso sembra ormai scontato grazie a tutti